ASL è comune di Arezzo assieme per combattere il Covid-19. È stato infatti firmato un protocollo d'intesa, il primo in Italia, che prevede l'impiego in via straordinaria del personale comunale nell'attività inerente tutte le azioni previste in ambito di emergenza sanitaria. 40 dipendenti comunali che avevano dato la loro disponibilità potranno essere così utilizzati dall'azienda sanitaria per ogni azione utile ed in favore della lotta contro il virus. Il protocollo d'intesa, così come strutturato, farà da apripista in tutta Italia, essendo il primo ad essere siglato a livello nazionale. Ed intanto, fa sapere il vice sindaco Lucia Tanti, è partito anche lo screening di massa sui bimbi dai 3 ai 14 anni. I test voluti dall'amministrazione comunale sono realizzati grazie alla collaborazione con Croce Rossa Italiana, ASL e azienda Luscax di Arezzo, che ha messo gratuitamente a disposizione il portale per permettere alle famiglie di poter prenotare lo screening in maniera agevole e riservata. A breve dunque, se lo vorranno, tutte le 8500 famiglie aretine potranno prenotarsi.